è tutto pronto qua siamo quasi punti per partire la partita tra all blacks e cremonese andiamo subito alla lettura delle formazioni per gli all blacks in porta epifania dioneo de luca e del giudice a difesa centrocampo con esposito cioffi e morano in attacco volpe e pappada nuovo acquisto mentre invece mentre invece per la cremonese in porta c'è signorillo che sostituisce donadoni infortunato che oggi giocherà avanti poi difesa con un po non si capisce dalle formazioni posca donadoni argentato chiariello puzziello defalco lanza c'è l'innesto anche di piccolo oltre a banza siamo tutti pronti tra poco si inizia e si inizia la partita volpe gira morano morano c'è volpe sulla traiettoria pacco pacco calcio in porta subito a cremonese senta il tiro epifania però controlla fuori e la da subito a di luca avanza scambia dioneo ancora del giudice esposito controlla pappa da da volpe si gira ancora troppo lunga rimessa dal fondo batterà signorillo la rimessa dal fondo lunga lanza controlla defalco in porta epifania la blocca poi va lunga non controlla donadoni avanza in avanti e luca ancora volpe giro l'ottima chiusura di argentato appada sbaglia cioè piccolo ancora lanza perde la palla capisce attenzione lanza recupera poi calcio in porta epifania in poi il calcio d'angolo ottima risposta del portiere degli old blacks si batte il colpo di testa che non arriva non adoni la rimette in mezzo ancora in porta fuori difendiamo a lunga sbagliato piccolo sbaglia volpe recupera lanciamo morano attenzione esce signoriello la butta in fallo laterale a lunga volpe il colpo di testa di dio neo signoriello fa una bellissima parata ancora di o neo si prende il fallo laterale esposito calcio in porta e c'è il gol degli old blacks con esposito risultato di 1 a 0 gol di esposito chiariello argentato la gira donadoni posca la dà indietro attenzione signoriello evita un gollonzo pappa da ad ancora esposito sbaglia chiarillo recupera piccolo more morano la butta in fallo in fallo laterale la lunga argentato perde falco non arriva posca controlla a signoriello guarda intorno allunga con le mani testa esposito controlla c'è chiarillo però volpe recupera mezza due non passa chiarillo ancora lui si gira va sposito chiude ancora argentato allunga in aria le luca non evita il calcio d'angolo morano ancora lunga ancora le luca può correre morano velocissimo pressione fallo cartellino giallo per chiarillo proteste questo fallo per lui dubbio batterà dioneo ma dioneo in porta lunga non trova nessuno batterà signorillo batte subito signorillo donatoni ancora signorillo va lunga attenzione passa piccolo piccolo fuori sono abbassati i tre tocchi alla cremonese per accendersi del luca controlla allunga dioneo le falco col tacco recupera del giudice è stato fallo andrà del giudice dei falco scusatemi la de falco abbattere questo calcio di punizione le falco in porta lunga attenzione chiariello gira morano recupera chiariello ancora la da de falco sbaglia controllo però va di uno sul pallone cioffi recupera intanto è entrato ora posca avanza posca da de falco non passa cioffi può partire adesso cioffi con questo contropiede esposito passa esposito due volte volpe volpe morano in aria posca in calcio d'angolo andrà morano in aria il teo deviazione ottimo tiro di cioffi no no fondo fondo c'è stata la legazione signorillo va lunga le luca la stoppa esposito a volpe morano vada epifania attenzione sbaglia chiariello ad adonadoni in aria il tiro di lanza con non con il suo piede migliore lanza e lo dimostra lunga aggancia pappadà signorillo signorillo avanza si guarda intorno va lunga del giudice controlla poi avanza ancora del giudice due volte passa da cioffi cioffi passa in aria e c'è il gollo di morano 2 a 0 ma che azione di cioffi 2 a 0 chiariello pusca avanza rimessa ancora per la cremonese dai falco vai a lanza controlla fa da esposito cioffi il tacco non aggancia del giudice rimessa all black De Luca ancora controllo così e così non fa uscire il pallone però cade fallo due falco attenzione può partire adesso la cremonese chiariello avanza attenzione due volte sbaglia volpe spallone si gira chiariello recupera poi vai subito in avanti ancora del giudice vai al passaggio però torna indietro fa fallo su De Falco andrà a lanza a battere questo calcio di punizione vediamo un po' balanza in porta epifania blocca De Luca Morano va a lungo signorello la fa sua la dà subito a Posca che fa velo argentato ancora De Luca allunga pappadà volpe in mezzo esposito calcio signorello poi Puzzillo la butta fuori o black sconcetratissimi questa partita vogliono recuperare la classifica non è dalla loro parte in questa ripresa dalle vacanze di Pasqua parte adesso la cremonese De Falco due volte del giudice recupera e allunga a volpe in aria pappadà non va Donatoni esposito recupera volpe può calciare non la fa Puzzillo può uscire parte a destra la cremonese ancora Puzzillo appoggia argentato in porta epifania vai De Falco fuori batte subito volpe esposito esposito ancora volpe De Luca va lunga pappadà controlla esposito ancora cioffi di tacco cioffi pappadà non passa su Posca chiariello si gira controlla vada a Posca Posca può partire attenzione De Falco di Cespica recupera passa così ancora De Falco si gira vuole calciare infatti lo fa palla fuori De Luca esposito si gira pappadà lunga sbaglia Donatoni prolunga nella zona di nessuno del giudice palla fuori calcio d'angolo c'è un po' di confusione andrà De Falco lanza si chiama il pallone lo serve infatti Morano di testa prolungo argentato attenzione esposito Posca recupera c'è ancora pappadà vada a Volpe ancora Volpe attenzione passa vada a Cioffi ancora Cioffi prolunga il tiro ad esposito Donatoni aggancia passa Donatoni recupera del giudice Cioffi di tacco Ancora del giudice in aria c'è da solo pappadà calcia e sono 3 Convalidato il gol c'era stato un presunto fallo di mani per De Luca però palla attaccata la mano attaccata al corpo 3 a 0 sono d'accordo sono d'accordo con quelli della Cremonese questo risultato che un po' li penalizza che stanno giocando bene si fanno vedere in avanti però dietro hanno un po' da ridire intanto lanza in porta palla fuori Epifania a Volpe di messa per gli al black De Luca allunga a Volpe Dioneo corre una gancia Fosca attenzione c'è fallo Chiariello allunga il colpo di lanza non c'è nessuno però Volpe controlla e vanno pure lui lunga Chiariello la butta fuori attenzione Pappada cade ha fatto qualcosa tutto apposta ha visto un euro per terra va a Volpe Posca di testa Cioffi c'è sulla traiettoria la dà ancora Pappada Cioffi ancora Cioffi Pappada in porta palla fuori attenzione batte subito De Falco controlla poi lunga nella zona di nessuno rimessa ancora per gli albelec Esposito rimessa ancora all black Volpe lunga Dioneo aggancia si può girare da Esposito scivola Esposito De Falco ne approfitta può correre a destra De Falco del giudice su pallone si può girare ancora del giudice Posca Chiariello blocca di testa piccolo De Falco si gira non riesce il tap in con piccola attenzione Posca Pappada recupera la dà Volpe Baglia Posca su pallone due volte non aggancia commette fallo va De Luca Dioneo ancora perde Luca si scambiano i due tacco Esposito avanzare gancia lunga pappada aggancia Dioneo calcia in porta palla fuori di poco rimessa per la Cremonese segnarello lunga piccolo non aggancia c'è Volpe vada palla a Cioffi Posca chiude ancora De Falco Lunga e più finale se la chiama palla a Cioffi si gira a Cioffi Volpe ancora Esposito gira dietro c'è Lanza sulla traiettoria può avanzare Lanza Chiariello Argentato ancora Lanza calcia in porta piccolo non aggancia Signoriello va allunga di testa Volpe Argentato Volpe la blocca rimessa ancora per gli All Black allunga Dioneo attenzione Cioffi se la prende si gira due volte passa Cioffi in aria di rigore il tiro deviato calcio d'angolo andrà Cioffi in aria pappa da di testa fuori battere se la prende si gira in aria e si gira e in aria ma ma si gira abbassino signoriello attenzione piccolo calcia in porta con una mezza ravesciata palla fuori palla fuori batte subito De Luca può avanzare del giudice Poscano la gancia Dioneo si gira la palla Pappadà che calcio in porta Pappadà e sono due all'esordio 4 a 0 4 a 0 risultato il primo tempo sotto shock per la Cremonese che comunque si fa vedere in avanti ma non riesce a bloccare your black piccolo di testa De Luca allunga Pappadà attenzione piccolo due volte non va Volpe non aggancia Pappadà la palla signorello che va lunga attenzione Volpe di testa Esposito Posca chiude rimessa ancora all black Esposito gira Epifania Sbaglia Epifania rimessa per la Cremonese De Falco gira calcio in porta fuori De il giudice Cioffi passa così però si porta il pallone fuori Puzziello va lunga testa Esposito due volte Puzziello calcio in porta Puzziello 4 a 1 il VAR toglie il gol per un fallo che ha portato al tiro di Puzziello quindi il risultato è di 4 a 0 sbatte volpe dai Luca è esposito sbaglia lanza scambi scambi Dioneo di testa la palla è riuscita argentato va lunga Chiariello l'allunga la riprende può calciare non lo fa Volpe Dioneo palla a Cioffi Cioffi non tira si gira ancora Cioffi subisce fallo ma finisce così il primo tempo risultato di 4 a 0 per YOL BLACK e si inizia il secondo tempo c'è ci sono tutti l'ha contati Francesco risultato di 4 a 0 a favore per YOL BLACK Valdonadoni calcio in porta fuori andrà Epifania a battere va lunga di testa pappadà del giudice rimessa per la cremonese De Luca lunga lanza eccezione non si capisce attenzione il tiro e c'è il gol di De Falco 4 a 1 questa volta è buono 4 a 1 Papini vincente di De Falco Dioneo Volpe Chiarello Sbaglia Cioffi a Dioneo Pugziello la butta fuori Pappadà Pugziello rimessa All Black del giudice Dioneo si cambia si cambia a Volpe si gira Morano sbaglia controllo però velocissimo Morano in aria Chiarello Lanza Fruziello De Falco può avanzare De Falco Volpe lo chiude Pugziello Pugziello De Luca De Falco De Falco calcio ancora in porta fuori di poco Appoggia Marco Francesco Epifania la dà a del giudice Cioffi Attenzione recupera ancora Pugziello tornare il tiro Epifania poi ancora De Falco 4 a 2 doppietta c'è il gol di De Falco su una bellissima parata di Epifania ma De Falco più caparbio si fa trovare pronto doppietta accende una speranza per la Cremonese per la Cremonese Cioffi la gira del giudice Volpe attenzione sbaglia Lanza può avanzare Donadoni in aria Donadoni il sinistro che parata di Epifania che salva un 4 a 3 clamoroso in aria colpo di testa Lanza Chiariello rimessa per Your Black che adesso possono respirare De Luca Volpe Lanza sulla traiettoria rimessa ancora per Your Black Cioffi restato due volte rimessa Cremonese diventato di tacco di testa del giudice ancora due volte Morano ancora Cremonese che adesso ci crede Morano allunga a Pappadà velocissimo Pappadà entra in aria rimessa Cremonese Signorello velocizza allunga di testa Volpe Pappadà non ci arriva attenzione Pappadà si capisce adesso palla direttamente fuori Lanza attenzione la palla Signoriello un po' corta la butta fuori Cioffi recupera attenzione fallo andrà ancora Dioneo a battere questo calcio di punizione non più Lanza che sta mandando a fanculo Dioneo in porta fuori ma Signorello lunga Morano di testa Pappadà la mette giù Pappadà calcio in porta fuori Chiariello Puzziello Fosca De Falco di tacco non passa su Del Giudice che può avanzare ancora Del Giudice si gira si guarda intorno allunga Puzziello di testa non molla Puzziello ancora due volte di testa Donadoni l'allunga De Falco che si gira De Luca recupera rimessa rimessa su per la Cremonese adesso avanza ci crede vuole fare 4-3 Puzziello lunga Chiariello due volte non controlla fallo De Luca Morano Cioffi la butta fuori l'argentato gli ho messo ancora il black Dioneo la blocca si gira Dioneo appoggia per Esposito 5-2 5-2 il risultato Chiariello Chiariello Puzziello gira ancora Dioneo Dioneo si gira in aria Dioneo calcio ancora fallo tacco di lanza Donadoni Chiariello calcio in porta epifania fallo fallo sbaglia il fallo rimessa Cremonese in testa De Falco del giudice Chiariello col sinistro palla fuori attenzione battono subito Morano pallunga palla signoriello se vuole perdere tempo la mette giù si guarda intorno pallunga però c'è solo De Falco Epifania la fa sua del giudice De Luca può avanzare palla Morano che corre Morano velocissimo Dioneo calciava al sinistro fuori palla ancora signoriello che andrà lunga no palla argentato Manella Morano però c'è stato fallo su Chiariello palla your black esposto del giudice sbaglia sbaglia Chiariello si gira De Falco recupera due volte Donadoni non arriva a lanza si guarda intorno Pappadà Chiariello pallone arriva Donadoni Donadoni che non aggancia Morano va lunga nella zona di Signoriello guarda lanza la stoppa si gira ancora lanza passa palla Donadoni che va in aria non c'è nessuno attenzione si combatte là non esce il pallone palla Cioffi può correre ancora Cioffi Posca chiude e va lunga Madeluca è sulla traiettoria può avanzare argentato subisce fallo si batte subito poi argentato recupera due volte De Luca sbaglia il passaggio ma Cioffi è veloce quindi non la fa uscire ancora Cioffi in aria Bioneo non c'è fallo De Falco chiude del giudice si gira ancora del giudice palla Cioffi ancora Cioffi calcia deviata Dioneo scambia ancora basta Cioffi ancora il tiro di Cioffi 6 a 2 si fa male ma ha segnato 6 a 2 il risultato la cremonese appena esce gli all black fanno male Lanza intanto calcia in porta Marco Lanza lo rifà 6 a 3 e l'ha rifatto Marco Lanza pappada sbaglia sbaglia il controllo palla fuori non ci sono cambi per la cremonese non aveva capito Francesco Lanza vallunga palla De Falco Epifania la fa sua vallunga pappada Cioffi Morano la mette giù può correre avanza Morano entra in aria Morano due volte non passa palla De Falco che non arriva c'è del giudice lunga Cioffi passa Cioffi ancora in aria Posca lo chiude e c'è fallo vallanza lunga De Luca attenzione c'è De Falco in agguato De Luca prolunga Donadoni chiude Esposito De Falco lo mette giù si gira passa De Falco ancora De Falco calcio in porta Epifania può partire adesso Cioffi che non ci arriva rimessa ancora cremonese con le mani chiariello chiariello calcio d'angolo calcio d'angolo calcio d'angolo guarda Falco basso da lanza che non non arriva c'è il signoriello che va in porta attenzione ancora in aria ancora ancora Cuzziello Donadoni attenzione in due con le mani argentato De Falco a buttare avanti Morano Dioneo ancora Morano ancora All Black intanto ha segnato l'Ajax sull'altro campo attenzione si scambiano qualcosa e due non si sa cosa lo scordiamo dopo in aria calcio d'angolo lo scambio di la fascia su cioffi ancora Dioneo si gira Dioneo calcio in porta ancora calcio d'angolo va Dioneo lunga attenzione non riesce più ad uscire adesso la cremonese ancora basso volpe palla fuori lanza signorillo argentato chiariello può avanzare si gira non arriva la palla posca c'è del giudice va da cioffi cioffi allunga Morano entra in aria Morano in calcio in porta non la passa a volpe che stava tutto solo va a lunga recupera di testa De Falco si gira si gira De Falco la palla a Chiariello Chiariello prende tempo non arriva nessuno esposito da Dioneo recupera Lanza ancora Chiariello in aria da De Falco si gira De Falco calcio d'angolo cioffi fai un occhio andrà Marco Lanza calcio in porta lo fa ancora Lanza sei a quattro sei a quattro Lanza fa un bel gol cioffi calcio in porta palla fuori Lanza la mano tutti in avanti lunga troppo lunga rimessa per Your Black due minuti più recupera alla fine del giudice a De Luca che sbaglia rimessa a Cremonese che dopo questo gol ha preso di nuovo fiducia dai Falco rimane ad Argentato Chiariello chiude ancora Cremonese Lanza lunga Volpe prolunga non ci arriva del giudice ancora Cremonese Donadoni può andare Donadoni Posca non ci arriva attenzione ti testa per Epifania mani piedi palla Cioffi Lanza chiude la palla rimane là ancora Lanza Volpe rimessa ancora Cremonese andrà il po' schito con le mani Volpe di testa Cioffi a Morano può correre ancora Morano velocissimo calcio e porta palo la palla ancora lui in aria rimessa ancora Cremonese che non vuole mollare De Luca la mette giù Epifania sbaglia Epifania rimessa ancora Cremonese Lanza si gira esposito Lanza si Lanza non la picchiare si prende il cartellino si prende il cartellino Lanza si prende il cartellino Lanza Cioffi sul pallone va lunga portiere è messa ancora Cremonese è messa ancora Cremonese Lanza 3 minuti di recupero di tacco De Falco Chiarillo Lanza Lanza non passa Volpe può avanzare è da solo Volpe Fosca lo chiude Cioffi scivola Cioffi si alza e la passa Volpe ancora Volpe passa Volpe entra in aria per Dioneo Signorello poi c'è il gol di Morano 7 a 4 De Falco adesso ci vuole provare lui calcia in porta Morano la gira da del giudice che va lunga c'è Lanza gira Signorello ancora Esposito su pallone Fosca Esposito lo chiude vada Volpe che si gira Volpe ancora Volpe non molla Morano calcia in porta questa terra argentato queste sono nelle parti basse con le mani Morano va lunga c'è Volpe aggancia Signorello la blocca e può partire in avanti stile Cuccaro ancora Signorello avanza Signorello ancora Signorello in aria calcio d'angolo e rimane là va a battere l'angolo in aria attenzione e palla fu Signorello ha deciso di giocare in avanti la porta è sguarnita ma finisce così la partita vincono your black e siamo qua alla fine della partita tra all black e Cremonese è risultato a favore per your black 7 e 4 andiamo prima a De Falco e purtroppo oggi stavate contati sono arrivati Lanza e piccolo dare una mano per fortuna per fortuna ma anche per sfortuna perché non li conoscevate quindi avete fatto quello che avete potuto comunque non l'avete mollato ma ovviamente gli all black sono più più squadra più squadra sicuramente sono più squadra noi eravamo contati innanzitutto ma non è mollato ci abbiamo provato fino all'ultimo però è andata male non ci siamo riusciti però questo è già un'ottima antipasta per la prossima il risultato passa in secondo piano è importante divertirsi in serenità è una cosa importante un saluto a De Falco ciao ragazzi alla prossima andiamo da Esposito doppietta ieri in campo subito avete messo le idee in chiaro segnando da quasi all'inizio i primi minuti è stata una bella partita finalmente siamo riusciti a giocare con quasi la squadra al completo abbiamo giocato bene nonostante mancava Arnese oggi Arnese si purtroppo problemi personali non è riuscito a venire ma anche Sabio il centrocampista c'è un auguro a tutti quelli della squadra che oggi mancano sicuramente purtroppo essendo questo è il primo anno che facciamo questo torneo tutti insieme come squadra non riusciamo ancora a trovarci molto bene in mezzo al campo però piano piano riusciamo a trovare una vaga e a migliorare sempre di più ci crediamo ci proviamo avete segnato e avete vinto un saluto a Esposito ci vediamo alla prossima ciao ragazzi